Amici 23, Mida e Gaia allo scoperto, reazione dell'ex fidanzata di lui I fan del talent show di Maria De Filippi si stanno appassionando molto al rapporto tra i due allievi e arriva la reazione dell'ex di lui Sta nascendo una storia d'amore tra Mida e Gaia De Martino nella scuola di Amici 23? Sembra proprio di sì I fan speriano da settimane di vedere i due allievi formare una coppia. Infatti, molti telespettatori avevano già notato una certa complicità tra loro Ed ecco che nel day time andato in onda ieri, Mida e Gaia sono apparsi complici e molto vicini In particolare, sono state trasmesse delle inquadrature in cui i due allievi del talent show di Maria De Filippi sono stessi nel letto insieme, faccia a faccia Ancora, però, pare non sia scattato alcun bacio Intanto, l'ex fidanzata di Mida viene spesso chiamata in causa quando vanno in onda scene che vedono i due così complici nella scuola di Canale 5 Questo perché i fan stanno sognando la nascita di questa nuova relazione e non sarebbe la prima di questa edizione I primi a uscire allo scoperto sono stati Miu e Mettio, che formano attualmente la coppia più affiatata del talent Dopo di loro anche Marisol Competti e Holly Francisco con Sara hanno dimostrato di essere delle coppie Mentre i fan di Amici 23 sperano di vedere un giorno Mida e Gaia fare dei passi in avanti, ecco che alcuni telespettatori chiedono all'ex fidanzata di lui di dire la sua Durante una diretta su Instagram, la ragazza, che si chiama Lucrezia, ha dichiarato di non aver ancora visto il daytime di ieri Detto ciò, ha assicurato di non notare alcuna somiglianza tra lei e Gaia E non è finita qui, perché a detta di molti fan la ragazza avrebbe poi riservato al cantante una frecciata Su TikTok, Lucrezia ha condiviso un video che a detta di molti rappresenterebbe una chiara frecciatina nei confronti di Mida Pare che fino all'ingresso del cantante nel talent show di Maria De Filippi su Canale 5 e i due formassero una coppia E non mi dire che ti manco tanto tanto, ha scritto l'ex fidanzata di Mida Questo video ha fatto nascere varie ipotesi sul web Ci sono alcuni fan che ritengono, a questo punto, che il cantante potrebbe aver detto all'ex fidanzata di sentire la sua mancanza Ma poi in casetta si sarebbe avvicinato comunque a Gaia Nei giorni precedenti a questa presunta frecciata, Lucrezia aveva risposto a un commento sui social network confermano che, sebbene la loro relazione sia finita, avrebbe continuato sempre a sostenerlo Dopo aver visto Mida e Gaia insieme ad Amici 23 avrà ancora questa intenzione? Non si sa Intanto, i fan del talent show sperano di assistere presto a un bacio tra il cantante e la ballerina Non resta, dunque, che attendere per scoprire come si evolverà questa storia